Volevo chiedervi un momento nella vostra vita in cui siete rimasti a bocca aperta proprio per la meraviglia di vedere un qualcosa che ancora oggi ricordate La cosa più bella è vedere l'Etna con la lava che cala in questi fiumi è una potenza infinita, una cosa che potrebbe distruggere ma è talmente bella che mi fa ancora una volta di più innamorare l'Italia Grazie